a palazzo ferraioli per un'occasione di assoluta eccellenza stiamo parlando dell'eccellenza cinematografica la prima edizione del premio dedicato ad anita eckberg l'attrice musa ispiratrice feliniana di recente scomparsa questo premio è un'idea della dottoressa sara jannone della sua associazione l'alba del terzo millennio tanti gli ospiti che saranno presenti qui una giornata un po particolare perché siamo il 12 di febbraio quindi anche una giornata in maschera una giornata carnevalesca e il cinema è un po di ispirazione maschera camoufage tutto quello che in qualche modo ci porta ad identità diverse interpretare personaggi e miti allora tutto questo ci sarà questa sera cominciamo con un ospite d'eccellenza presente con la sua casa editrice che questa sera avrà reso omaggio alle signore anche signori partecipanti con alcuni libri proprio di produzione della casa editrice stasera sono felicissimo che stare agli annone mi ha invitato a questa bellissima serata in maschera dove ho mangiato a tutti gli ospiti circa 200 libri e niente sono contentissimo di stare questa serata mi trovo anche qua perché poi abbiamo un libro di mimo di francia che noi presenteremo il 3 di marzo a roma con marina ripa di meana champagne perché champagne perché a dicembre ha fatto 40 anni della canzone di famoso peppino di capri dove l'autore è mimo di francia e tante altre canzoni ha scritto per renzo arbore e tanti altri personaggi adesso però mi viene d'obbligo ma anche spontaneo chiederle che cosa ne penso di questa prima edizione di questo premio intanto che cosa ha rappresentato per lei Anita Egberg e soprattutto magari un commento sui personaggi che verranno premiati questa sera Lando Buzanca Barbara De Rossi Sandra Milo Silvana Pampanini e tanti altri sicuramente sarà un grande successo perché poi se parliamo della grande famosissima attrice che ecco io ho visto il film del famoso del bagno nella fontana di Trevi giusto che quello ci sono cresciuto con quelle immagini quindi un'attrice favolosa bravissima tutte le sue caratteristiche poi per quanto riguarda la De Rossi che poi conosco personalmente una mia carissima amica sono felicissimo per lei ma anche per Lando Buzanca che ho conosciuto quindi faccio gli auguri a tutti i quanti loro